Musica Bentornati a Da Tu per Tu, la rubrica che come ormai sapete va a esplorare le vite private dei VIP dell'Alto Adige, di Bolzano, insomma di quelli che vivono al nostro fianco tutti i giorni. Oggi straordinariamente siamo qui al Palahonda, anzi negli spogliatoi del Palahonda con Stefan Zisser, grazie mille per aver accettato il nostro invito, sai che saranno 10 minuti di fatti tuoi vero? Ci faremo proprio i fattacci tuoi quindi per tutelarci dovrei giurare sulla foto di Ezzi, giura che direi tutta la verità e nient'altro che la verità, giuro che risponderai a tutte le mie domande e giura che non mi farei del male finita questa intervista. Grazie, questa è la più importante di tutte. Allora qui a Bolzano ormai ti conosciamo benissimo, sei più che una bandiera dell'Hockey Club Bolzano, ma oltre a questo chi sei in 30 secondi? 30 secondi, sì sono figlio di Marlene Helbu Zisser, fratello di Barbara Zisser, noi abitiamo a San Maddalena a Bolzano, nato e cresciuto a Bolzano, andato a scuola a Bolzano, poi a 16 anni mi sono trasferito in Finlandia e sì dopo ho fatto due anni a Milano, ho vissuto anche là e dal 2002 sono di nuovo qua, ho una ragazza, si chiama Mara, ci sono insieme da ormai 8 anni e sì, poi questo è tutto. Insomma hai girato anche tu un bel pochino? Sì, sempre fortunato. Una compagna? Non sei sposato? No, non sono ancora sposato, conviviamo da ormai 6 anni, però ti sposerai? Penso di sì. I figli anche in previsione tra un po'? Anche tu sei uno di quelli che come me a casa ha più animali che vestiti, io ho tre gatti, tu? Ok, la mia ragazza è la Mara, ne ha anche quattro gatti, noi abbiamo due cagnolini a casa, un baboncino e la sua figlietta, anche lei una baboncina, Billy e Nelly, sì sì, sono in centro dell'attenzione sempre a casa nostra. Sempre vero, sono più viziati che altro. Ormai sei, come abbiamo detto, una bandiera dell'Hockey Club Bolzano, ti riconoscono per strada? Sì. E cosa ti dicono, un episodio particolare che è capitato? Ovviamente, insomma, mi chiedono come va l'atmosfera della squadra, come andate la partita, ci tirano le orecchie quando non va bene, però insomma questa è una cosa con cui dobbiamo convivere, giochiamo bene, ci danno, ci lordano, così quando giochiamo male anche lì dobbiamo rispondere per i nostri atti. Quindi quando giocate bene vi offrono caffè, quando giocate male dovete offrirlo voi agli altri. Ok, quindi quando perdete chiamatemi così vi crocco un caffè. Quando giochiamo male. Esattamente, spero mai. Quando è che hai deciso di giocare a hockey? Ma, ho cominciato a 5 anni, mio papà mi ha portato allo stadio, lui giocava un po', anche i suoi amici giocavano e mi ha portato là e subito ci sono creati delle amicizie molto intense, molto importanti e niente, dopo anno dopo anno, insomma la passione è cresciuta e dopo ho potuto fare dal mio hobby, ho potuto fare un lavoro. E ho la fortuna di poterlo ancora fare. Eh, caspita, che non è decisamente poco. E nel tuo tempo libero invece cosa fai? Nel tempo libero lavoro a casa, nella nostra ditta a casa diciamo così e poi mi piace anche come rilassarmi, mi piace giocare a golf. Ah, e quindi nel tempo libero cerco di giocare a golf perché sei in natura, puoi staccare, è un buon equilibrio per lo stress e l'attività fisica dell'hockey. E sei bravo quanto a giocare a hockey? No, non ancora. Beh, allora diciamo che quando, speriamo più tardi possibile, finirà la carriera nell'hockey, magari ne hai una nel golf, chi lo sa. Spero anch'io, sì. E invece ti diverti, esci sabato sera, vedi i tuoi amici? Certo, sì, sì, un po' di divertimento ci sta sempre. Col calendario di questo campionato ebel adesso è un po' difficile perché si gioca venerdì e domenica, perciò uscire di domenica non è tanto bello, però ogni tanto si fa anche quello. Si fa anche quello, si fa bere la birra, due birre, tre birre, cinque birre. A casa invece hai una qualche mania particolare oppure sei particolarmente bravo a cucinare? No, no, mi piace cucinare perché come ho detto ho vissuto per quattro anni in Finlandia da solo, anche a Milano. Ho vissuto da solo e lì mi sono dovuto arrangiare, perciò mi piace cucinare, però vivendo sopra un ristorante è un po' difficile. E perciò non accade spesso che cucino. E in Finlandia cosa ti cucinavi? Per cosa si mangia in Finlandia? In Finlandia niente, la dieta era un po' a base di patate e di pesce ovviamente, però insomma io ho cercato di farmi la mia pasta, il pomodoro, robe semplici, la carne, la griglia, un po' così. Ti facevi mandare la pasta a Barilla da mamma a Mettino, bravo per forza. Scusami, sempre per stare sulla Finlandia, quanto freddo fa in Finlandia? Eh, faceva abbastanza freddo, il record che ha fatto quando ero su io ero almeno 28 gradi, quello era veramente freddo. Mi verrebbe da dire azzo, ma non si può dire perché stiamo registrando. Hai Facebook? Sì, ma non lo uso tanto, devo dire. Non sei uno che si fa i selfie ogni 5 minuti in bagno, cose del genere, no. Ma è partita quella moda, quella cosa di Facebook. Però ogni tanto ti trovi le tue foto pubblicate a tradimento su Facebook. Sì, sì, certo guardo anche così, però non è che sto là a condividere le robe così, perché anche a dire la verità ne passo poco tempo davanti al computer, perché colochi e gioco e lavoro, insomma non ho tantissimo tempo. Non hai tutto questo tempo, dai. E vai a votare? Ti interessa o ti interessi anche vagamente di politica? Sì, sì, mi interesso normalmente, sì. Cosa hai votato quindi alle ultime elezioni? Se puoi dirlo. No, è normale, insomma ognuno ha le sue idee, è così, insomma si cerca di votare quello in cui ti cerca, che pensi come imprenditore ti può aiutare un po', come servizi sociali e così, e perciò ho preso la mia decisione. Come hai glissato la domanda, sei stato bravissimo. Chi vorresti vedere come Presidente del Consiglio italiano? Non necessariamente un politico, una persona che magari amiri in particolar modo. Ma è molto difficile, devo dire, perché secondo me abbiamo bisogno di una forte mano per riuscire a uscire anche da questo momento un po' brutto che c'è economicamente. E perciò forse, non so, non conosco troppa gente brava in economia che potrei mettere là, però penso ben che i nostri politici sicuramente prenderanno una decisione importante e buona per il futuro. E sei uno che guarda tanta televisione? Sì, devo dire sì, quando non lavoro e non gioco a hockey cerco a casa di guardare un po' di tipo. E cosa guardi in particolare? Dimmelo al grande fratello. No, no, mi piacciono i reality, per staccare completamente guardo i Simpsons, devo dire, sono una fan grandiosa dei Simpsons. E se no, mi piacciono le serie tv come, non so, come Person of Interest o Covered Affairs, una roba così. E la tua preferita in assoluto qual è? White Collar, devo dire, mi è piaciuto molto. Ok, quindi insomma. E invece di film li guardi? Poco, poco, devo dire, perché essendo così lunghi i film, ovviamente due ore così, non ho sempre il tempo di guardarle. Però mi piacciono i film della Marvel ultimamente. Che ne sta sputtando fuori, oltretutto uno al mese, quindi ne hai da guardare. Dici parolacce? Purtroppo sì. E qual è quella che dici più spesso? Purtroppo no. Senza nessun riferimento a nessuno. No, no. L'ultima volta che sei tornato a casa completamente distrutto alle 6 del mattino umbriaco, la tua fidanzata ti ha anche detto, po, 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 sei tornato ubriaco. No, no. Era domenica sera, però no, no, non mi ha sgridato. Non ti ha sgridato? Ah, ok. E l'ultima volta che invece hai fatto una cazzata? Sì. Forse ieri sera a cena ho detto troppe robe che non dovevo dire, forse. Perché hai alzato il gomito e hai detto troppo i fatti tuoi? No, 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 no. Sono qui. E l'ultima persona invece a cui hai detto ti voglio bene? Alla mia regazza. Ultima domanda e poi andiamo in chiusura. Ci ritroviamo qua io e te tra 10 anni. Stesse panchine, stesse magliette. Cosa ci sarà di diverso? Buona domanda. Secondo me speriamo che l'economia vada un po' meglio come imprenditore. Me lo auguro. Sicuramente ci saranno ancora un po' di scudetti più appesi qua fuori perché la mentalità vincente sicuramente rimarrà a Bolzano e niente. Forse possiamo parlare del Bolzano come tifoso allora, io non più come giocatore. Magari vai in curva insieme a quelli che sono oggi in curva e che ci saranno sicuramente anche tra 10 anni. Bene, adesso in chiusura dobbiamo farti la classica domanda sull'Alto Adige. Vediamo se sei stato fortunato. Perché il sistema delle cooperative è tanto popolare in Alto Adige? Perché l'economia locale è caratterizzata da piccole e piccolissime imprese per via del successo politico del Partito Socialista o a causa del movimento no global degli ultimi anni? La prima. La prima. È stata facile, facilissima, proprio imprenditore. Sì, sì, sì. Si vede che eri preparatissimo, secondo me hai studiato. Bene. Purtroppo non vinci niente, però sei stato bravo lo stesso. A me non resta che ringraziarti, sei stato simpaticissimo e gentilissimo. E per quanto mi riguarda non posso fare altro che salutarvi e ricordarvi che tra breve ci sarà la prossima puntata di A Tu Per Tu. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.